Abbiamo valori forti nel cuore e radici da proteggere. Occhi puntati su domani, con fiducia e determinazione. Siamo fratelli, amiamo la nostra gente, parliamo la stessa lingua. L'Italia è nel nostro cuore, lì abbiamo le nostre radici. Qui in Nord America conosciamo le nostre esperienze, i nostri sacrifici, le nostre sfide. Come voi, vogliamo una nuova politica, basata su valori di ottimismo, fede e speranza. Abbiamo bisogno di una voce nordamericana, al servizio degli italiani, in Nord America. Per le elezioni politiche in Italia, dai la tua fiducia a Mario Cortellucci al Senato e Vincenzo Arcobelli alla Camera.